LUNEDÌ DELLA VENTINOVESIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo, uno della folla disse a Gesù, Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro, Fate attenzione, e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé, Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, Demolirò i miei magazzini, e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano ai miei beni. Poi dirò a me stesso, Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé, e non si arricchisce presso Dio. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco La parte più significativa della nostra vita è nelle relazioni. Quando ad esse si aggiunge anche il legame familiare, allora si è in un territorio ancora più prezioso e delicato. Ma come è possibile poi, a un certo punto, dividersi da un fratello, o da un congiunto, per questioni legate alle cose? Il Vangelo di oggi ha come tema proprio questo. Uno della folla gli disse, Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, Uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro, Guardatevi, e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Gesù lo dice con chiarezza, la nostra vita non dipende dai nostri beni, eppure carichiamo di una immensa importanza la questione dei beni, specie quando bisogna dividerli insieme. Capita a molti di dire, io non sono attaccato alle cose. Ma poi, quando ci si ritrova davanti a situazioni simili, tutto si capovolge, e, interrogate, queste persone rispondono. È una questione di principio, di giustizia. Gesù non fornisce indicazioni per dirimere simili conflitti, ma invita ciascuno a riflettere sul grande tema dell'attaccamento alle cose, e lo fa attraverso il racconto di una parabola. Un uomo lavora, ha un buon raccolto, la vita il gira nel verso giusto, ha così tanto che deve persino demolire i propri magazzini per fare spazio. Ma proprio quando sembra arrivato il momento di godere di tutti quei beni, Gesù prosegue nel racconto dicendo, Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio. Essere attaccati alle cose significa pensare che la nostra vita dipende dal verbo avere, ma, dicevamo all'inizio, che la parte più significativa di una persona è nelle sue relazioni, e non nei suoi averi. Che senso ha mettere in crisi una relazione per colpa del verbo avere? Alla fine della vita ci verrà chiesto quanto abbiamo amato, e non quanto abbiamo accumulato.